Ciao, sono Irene e vedo il benvenuto a Castello d'Albertis. Vi aspettiamo domani, dalle 10 alle 18, e abbiamo pensato per voi due eventi, uno alle 11 e alle 16, intitolato Visita a più voci, a cura della dottoressa Maria Camilla De Palma, la nostra direttrice, e la cooperativa Solidarietà e Lavoro. Alle 16 e 30, pensato invece per i più piccoli, abbiamo Esplora il Museo. Vi aspettiamo numerosi. Bentornati all'Use di Stranova, nuovamente riaperti a giovedì e venerdì, con orario 10-18, e contate nuove iniziative come incontri con curatori a giovedì e l'attività didattica organizzata per i più giovani dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro. Buongiorno a tutti, dalla Bolsoniana e da Genova Nervi. Vi aspettiamo giovedì e venerdì dalle 10 alle 18 per una visita alle nostre collezioni e alla mostra dal corpo al corpo. Un saluto dal Museo di Storia Naturale e dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro. Il museo e la mostra Mythos vi aspetta giovedì dalle 14-18 e venerdì dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo. Benvenuti alla gala Tabuso del Mare. Sono Marco della cooperativa Solidarietà e Lavoro. Vi aspettiamo nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 11 al 18 per raccontarvi storie della navigazione di fronte alla nostra galea. A presto!